Il prossimo step è l'installazione dei fine corsa magnetici. I fine corsa magnetici hanno un senso di installazione. Il blu va sempre montato sul lato destro, il rosso va sempre montato sul lato sinistro. Questo indipendentemente dal verso di apertura del cancello. Per l'installazione dei fine corsa magnetici vengono date in dotazione le relative staffe, ogni staffa ha un verso di installazione, e le viti. Una volta installati fine corsa bisogna accertarsi che la distanza fra il magnete e il punto di lettura non sia superiore a 38 mm.